Una soddisfazione per Marcello Sacchetta, il famoso ballerino di Amici, conduttore della strescia quotidiana del programma, fa sapere dai social di aver creato la coreografia per l'ultimo spot della team. È una notizia che lui stesso ha reso nota condividendo sulle Instagram Stories un post scritto dal suo fan club. Dopo i pezzi coreografati per i ballerini professionisti di Amici, il lavoro per la compagnia telefonica è unesperienza che, per la seconda volta, si aggiunge al curriculum di Sacchetta. Oggi si parla solo di lui, e non per la storia con la fidanzata Giulia Pausselli o per l'amicizia con Stefano De Martino, ma per un successo tutto personale per il ragazzo che si è fatto da solo dopo essersi presentato, anni fa, come ballerino sfidante ad Amici. E perché no, visti i rumor sull'assenza di Garrison nella prossima edizione del Talent Show, per Marcello potrebbero prospettarsi altri importanti cambiamenti, magari potremmo vederlo come uno dei prossimi insegnanti di danza. .